Buongiorno, sono Marco Piromalli della Link, siamo qui per l'ennesima volta a Francoforte a cui partecipiamo dal 1992, quest'anno portiamo alcune novità sui connettori, alcune sui trattamenti, come potete vedere trattamento in cromatura nera e altre caratteristiche, il connettore 19 poli per le luci con il sistema self-locking del backshell, per quanto riguarda la parte audio, nuovi cavi in fibra ottica, nuovo cavo per il video SMTTE e l'ultima novità è il piccolo sistema digitale fino a 16 ingressi e 8 uscite con protocollo Dante, chiaramente estensibile fino a 256 canali e via dicendo. Presto arriverà anche il software di controllo su iPad sia per questo che per la versione grande precedente. Oltre questo nuovi media converter, connessione in fibra e rugged switch basati su switch Cisco, fino a anche due macchine insieme per una ridondanza completa. Grazie di tutto, grazie a connessioni e a presto.